A poco più di tre mesi dalle amministrative del capoluogo l'unico candidato in campo resta il sindaco uscente Gianluca Festa alla guida di una serie di liste civiche così come cinque anni fa. Centrodestra e centrosinistra sono invece ancora in alto mare. Per quanto riguarda il centrodestra sembra perdere corpo l'ipotesi di una discesa in campo del giornalista Rai Rino Genovese che aveva posto come condizione quella di rinunciare ai simboli di partito e quindi di costruire una larga compagine civica con dentro anche forze distanti tra loro. Inizialmente l'ipotesi è sembrata percorribile ma con il trascorrere dei giorni nel centrodestra anche su spinta dei livelli nazionali e regionali della coalizione è passata la linea di correre con una formazione marcatamente politica e soprattutto senza rinunciare a liste di partito. Tramontata la candidatura di Genovese che ad ore dovrebbe annunciare il suo ritiro dalla contesa si dovrà dunque trovare un nuovo nome che unisca tutti. Cerca un nome politico anche il centrosinistra. Nel pomeriggio di ieri Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra e varie associazioni hanno tenuto l'ennesima riunione. L'indicazione del candidato dovrebbe spettare al PD. I nomi che circolano restano quelli della coordinatrice provinciale Enza Ambrosone e del segretario Nello Pizza. I 5 Stelle, archiviata l'ipotesi del preside dell'agrario Pietro Caterini, potrebbero proporre l'onorevole Michele Gubitosa mentre un pezzo della coalizione vorrebbe puntare sul giovane consigliere comunale Francesco Iandolo. E di elezioni amministrative questa mattina ha parlato anche il sindaco Gianluca Festa a margine di una conferenza stampa per presentare alcuni eventi culturali in città. Il primo cittadino del capoluogo ha spiegato che la sua sarà una campagna elettorale basata sulle cose fatte in questi anni e per chiedere ai cittadini di rinnovargli la fiducia. Nessuna polemica con gli avversari dunque ma progetti e programmi da mettere in cantiere per gli anni a venire e portare così a termine la rivoluzione iniziata cinque anni fa. Guardi, sarà una campagna elettorale nella quale noi mostreremo tutti i grandi risultati che questa amministrazione ha raggiunto, il grandissimo lavoro che ha fatto in termini economici di opere pubbliche, di rilancio, di ritrovato protagonismo per Avellino e chiederemo alla città nuovamente cinque anni di fiducia per continuare a lavorare per la nostra Avellino, per renderla sempre più attrattiva, sempre più vivibile, una città sempre migliore della quale essere orgogliosi. Ovviamente avremo qualche avversario ma la mia formazione è quella sportiva, noi scendiamo in campo e se siamo migliori vinciamo, altrimenti ci rendiamo all'avversario e questo è quello che dissi anche più di quattro anni e mezzo fa alla mia squadra di consiglieri e di assessori, dissi nel 2024 noi saremo valutati sul lavoro fatto o non fatto. Se saremo convincenti ci riproporremo e vinceremo, altrimenti no, io sono fiducioso e convinto che abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Mi pare che la gente ne stia sempre più prendendo consapevolezza e quindi al di là di chi saranno gli avversari che ovviamente ci saranno. Noi parleremo sempre e soltanto di noi, non faremo come i nostri antagonisti che offendono, denunciano. Noi siamo fatti di altra pasta, abbiamo altro stile, abbiamo altro approccio, altra formazione ed educazione, non solo politica.